Eh si Stai più vicino Guarda, posso vivere? Eh, vai No, è un po' vicino Nooo Eccolo Così, aspetta Ok, Fede Guarda in inglese se poi lo metti sul Let me see Non sembra vero Ma le modi funzionano alla fine? Si si Eccolo sul primo motor Metti dritto Metti dritto Guarda che roba Guarda che roba Pallone fino all'azio a piedi Eh, è un po' che giallisca Ma spiega invece Cos'è una bifca Sì Vuoi guidare? Sì Vuoi fare un giro? No, no, no Sicuro? Sì 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 Sì